Siamo in compagnia di mister Ciro Ferrara mister domani questo derby sentito purtroppo senza la tifoseria avversaria una partita che deve dare riscatto in questo 2018 per la Juve Stave perché un punto in due partite davvero un bottino magro Sì ma soprattutto noi cerchiamo riscatto sotto il profilo del gioco cosa non abbiamo visto a Travani di cui siamo molto rammaticati abbiamo lavorato bene questa settimana fortunatamente abbiamo buttato alle spalle il mercato e si ricomincia speriamo a correre come prima del mercato. Ecco il mercato ha portato tante novità a dispetto di quello che si diceva prima di questo mercato si parlava di una Juve Stave che doveva fare poche operazioni poi diciamo Moreno accetta Avellino, Lisi va al Pisa, va prima a Pisa perché si parlava di giugno, arrivano giocatori a centrocampo come Vicente, arriva Marzorati, arriva Melara, arriva Franchina, arriva Severino, diciamo tutti i giocatori nuovi come giudica lei questo mercato? Ne parlavamo prima sulla carta sarebbero tutti ottimi acquisti poi è sempre il campo che deve dare il verdetto. Sì noi non volevamo stravolgere niente purtroppo come dicevi le partenze di Moreno e Lisi hanno dovuto, davano a forzare un po' il mercato e abbiamo dovuto di fretta e furia trovare qualcuno che venisse a rimpiazzarli. Come dicevi sulla carta abbiamo preso degli ottimi giocatori che hanno un ottimo obiettivo di presentazione adesso bisogna andare in campo alle risposte che daranno e in base a quello possiamo dire se abbiamo operato bene o meno. Mi stai ritornando alla partita di domani la Paganese diciamo che arriva dalla prima vittoria in casa, la Juve Stave invece dà una sconfitta subita in rimonta dal Trapani, che gara sarà a livello di motivazione e di stimoli. Ma ce n'è tanta soprattutto per il fatto che è in derby è molto sentito quindi già questo basterebbe per dare le motivazioni giuste per affrontare la gara in maniera giusta con la testa giusta. Da parte nostra siamo preparati per questo, sappiamo che verrà la Paganese qua cercare di fare di continuare il percorso che stanno facendo soprattutto quello ultimo molto positivo e da parte nostra dobbiamo cercare di concretizzare quanto di buono è stato fatto e non abbiamo raccolto in ultime partite. Nove giorni per preparare questa sfida come stanno i calciatori della Juve Stabbia? Noi abbiamo visto, nella Micavero Colabaretti un melare che ha giocato però non in perfette condizioni, lo possiamo vedere già dal primo minuto oppure volete inserirlo gradualmente? È la situazione degli altri perché poi ricordiamo che Giarise è uscito anzitempo a Trapani ma Stalli non ha giocato per un problema intestinale, spero che sia stato risolto è un po' un quadro generale. Ancora non abbiamo visto le condizioni fisiche di tutti quelli che hanno accusato questi giorni, quindi adesso andiamo giù faremo un resoconto, vediamo all'evento di oggi come va, chi è disponibile e chi meno e certamente metteremo in campo quelli che daranno più garanzie anche sotto il profilo fisico, insomma se qualcuno non è in condizioni per poter affrontare una gara per 90 minuti certamente farà posto a chi invece lo è. anche Melara è venuto adesso, non è al meglio non è al top, noi sappiamo che Melara al top ci darà una grossa mano. In questo momento qua dobbiamo anche fare gli interessi del ragazzo che sicuramente vorrà andare in campo quando è in condizioni di poterlo fare. Giustamente per non fare fra i corretti brutte figure, ma domani con la Paganese che Juve Stabia ci dobbiamo attendere, Juve Stabia all'arrembaggio che metta subito le cose in chiaro e magari metta risultato perché nelle ultime gare una Juve Stabia proprio col Catanzaro ha fatto di tutto di più per non segnare e poi ha preso quel golo alla fine. Io e Fabio ci aspettiamo la solida Juve Stabia quella che scende in campo cercando di dare il massimo senza guardare il risultato né all'inizio e anche alla fine, anche se a volte magari è negativo perché noi siamo sicuri che alla lunga dare i suoi frutti. Purtroppo parlavo del rammarico di domenica scorsa perché non abbiamo visto una squadra giocare quando c'erano le condizioni di poterlo fare anche se stavamo di fronte il Trapani dobbiamo sempre provare a farlo anche perché è nelle nostre corde poterlo fare quindi è giusto andare in campo senza paura dell'avversario perché la paura ti toglie poi la tranquillità che serve per poter dimostrare le qualità che hai. Sembrano anche un po' le condizioni meteorologiche essere contro la Juve Stabia ogni volta che giochi in casa c'è questo tempo un po' che fa le bizze il tempo meteorologico domani che si aspetta? Ecco come discorso tifosi questo decimo posto può far allontanare i tifosi che vedono pian piano scendere sempre di più la Juve Stabia o il mercato può invece attrarre per dire andiamo a vedere questi nuovi acquisti? Ma noi forse ci manca qualche punto anche perché noi rispetto agli altri abbiamo riposato quindi qualcuno ci ha recuperato qualche punto grazie anche a questa giornata a voto della Juve Stabia i tifosi penso che saranno lo stesso perché io penso che la gente viene allo stadio a prescindere dal risultato se vede una squadra impegnarsi per la maglia penso che venga a vedere lo spettacolo poi ecco in questo momento qua siamo a metà classifica quindi non siamo come dire né carne né pesce cerchiamo di essere concreti di cercare di mantenere di essere solidi e mantenere questa posizione più a lungo possibile per poter poi cercare di centrare l'obiettivo a fine anno Ecco una vittoria una sconfitta con la Paganese una vittoria in campionato quella che contava davvero una sconfitta con la Paganese sul rigore agli ultimi minuti che cosa ci dobbiamo attendere? Ecco lei che cosa spera da questa partita? oltre diciamo al discorso del risultato Come dicevo io prima mi aspetto di ritornare a correre a giocare come abbiamo fatto nelle altre partite perché poi sicuramente quello ci darà quello che ci aspettiamo poi i risultati alla fine sappiamo che la Paganese ha fatto degli innesti importanti e vorranno venire qua io conosco molto bene Massimo Favo loro allenatore ci ho giocato parecchi anni insieme so che uno che studia compignoleria l'avversario so che l'ha fatto anche questa settimana e cercherà di farci lo sgambetto da parte nostra noi sappiamo che non bisogna ragionare bisogna correre tanto perché è nelle nostre corde perché abbiamo questa caratteristica che è importante e ci ha portato fin qua In chiusura diamo i numeri o non li diamo questi numeri? 4, 2, 3, 1 o si vede al momento? Vediamo chi abbiamo disponibili in base a quello poi ne faremo di necessità per tutti Grazie a tutti